Con Daniele De Rossi, migliore in campo Simplice ha fatto meglio di lui, non doveva nemmeno giocare Il gol del 3-1, 7 e mezzo, ma guardate, tanti sette, peggiore di tutti Ma a prendere a sufficienza Angel come Lobont e poi bene anche che entrò dalla panchina Burini e Pizarro Simplice, il migliore in campo Simplice nella Roma, come dicevi giustamente L'Atalanta, il sette, è dato a Schelotto, migliore inodore di Nazionale Inodore perché Prandelli lo sta per convocare nella Nazionale Azzurra Poi vedete anche gli altri voti, 6 a Collantuono, nonostante la sconfitta Comunque l'Atalanta ha fatto sempre 10 punti e fino adesso in questo campionato Poi certo che va considerata la penalizzazione